Il momento più emozionante della mia carriera sportiva è stata la medaglia vinta alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. La cosa che meno mi piace del mio sport è entrare ogni mattina in acqua, soprattutto nei periodi freddi. La cosa che invece più mi piace è arrivare poi alla competizione e gareggiare. Il vizio verso cui sono più indulgente e d'atleta non è una cosa buona è concedermi troppo spesso la pizza fritta, uno dei miei piatti preferiti e gli unici sgarri che faccio sono questi per il cibo e soprattutto questo verso la pizza fritta. Sembrerà strano ma in quanto napoletano e quindi scaramantico, i napoletani sono famosi anche per la scaramanzia, io non ho un mio portafortuna, non ho oggetti che porto con me, non ho rituali prima di entrare in basca, affido tutto a me stesso, un po' alla sorte, un po' alla fortuna ma soprattutto a quanto abbiamo fatto io e il mio allenatore per arrivare a quella competizione. Quindi scaramanzia nulla, oggi ti porta fortuna nulla ma un po' di dedizione a San Gennaro ce la mettiamo.